Buongiorno amiche, buongiorno amici, devo ancora rispondere ad alcuni di voi, mannaggia, ma ieri è stata proprio una giornatina intensissima, intensissima e sono in ritardo con gli aggiornamenti, però saluto tutti, ringrazio per i commenti, ringrazio per il sostegno Vabbè, non è che ci stiamo a prendere pizza, ecco Max, però Devo ancora ascoltare un suo messaggio, tante cose, tante cose, beh Oh, che mi è caduto No, no, non è un caffè No, stamattina è già successo di tutto Allora, mi è volata in terra e non si sa come, dicevo con un'amica, la ciotola della planetaria Avevo appena terminato di aggiungere l'albume, meno male che l'abbia montato, ma tutto il resto Vado per prendere in frigorifero lo stampo, la sua teglia, perché quello è il procedimento, poi ve ne riparlo Insomma, pom, parte in terra la ciotola con tutto l'impasto, gli schizzi sono arrivati due metri più là in sala, ho imbrattato mezzo frigorifero Non vi dico, per fortuna poi si è rimessa in piedi, ho perduto un terzo di impasto Vabbè, mi rassegno, dico, chi se ne frega, ne prendo una parte, la metto in un pirottino di silicone per farmene una porzione Dico, ah, va bene, va bene, è andata così, offriamo al Signore tutti gli accidenti, contento lui Dice così, io glieli offro, sono solo accidenti che gli arrivano, non perché li ritiro io, ma perché mai capita Vabbè, offriamo i nostri accidenti, va bene, qualcosa di buono, magari dopo il purgatorio ci arriverà O ci faranno degli sconti Insomma, vado in forno, manco 20 minuti, vado a ritirare, un quarto d'ora, vado a ritirare il mio pirottino Dico, faccio presto, il fumo, si è brusato, si sono brusato tutti e due Allora, tolto sopra il pirottino, mi è rimasto poco e niente nel muffin E ho dovuto scartavetrare, la parte superiore del gatto de Savoie, che poi in realtà sarebbe il sedere Ho tolto una bella crosta carbonizzata, il profumo è rimasto in tonso Che gli avevo fatto lo zucchero profumato di Clementine della Calabria Cioè, quelle, c'ho anche le arance della Calabria Eh, mi sono arrivate dalla Calabria, non dalla Sicilia Ma va bene uguale E io dico, eh porca zozza stamattina Che altro devo andare storto? Che Camilla, li ho porto presto, domani mattina o presto Che dobbiamo fare gli allestimenti natalizi Poi dobbiamo andare in libreria Eh, Camilla è per strada mo Che sono le dieci passate E io c'ho da lavare ancora i tegami, le cose di ieri, ieri Sì, i casini miei Da qua io è colmo, ora vado E niente, dovevamo lavare il mio piumone Non si può portarlo lavando perché non si fa presto Non si fa, serve Va bene, pazienza, si farà un'altra volta Non muore nessuno, va? E allora, vi chiacchierò con tutto quello che hai a fare? Sto seduto e chiacchierò con voi Oh, se questo non è affetto Magari fosse anche affettato Uh, mi mangerai del culatello Del lardo di colonnata Della finocchiona Del Uh, la soppressa di Treviso Di Conegliano Veneto Di quelle parti là Ma Rema che buona Altro che il ciauscolo No, ma va bene anche il ciauscolo È buono anche il ciauscolo L'abbiamo scoperto a Roma No, il ciauscolo Il ciauscolo Quanto ve ne sono spalmato nel pane Quando ancora mangiavo maiale E quando ancora mangiavo il glutine Poi uno dice Stai bene, non sto bene No, ho mangiato di tutto e di più Perché bisognava mangiare un po' di tutto E non è così Ecco, però Vabbè, no, non faccio cazziattoli Sull'alimentazione Però ho il caffè Il caffè della peppina Guardate Ce n'è ancora un po' questa mattina Me lo bevo È freddo C'è un vento gelido fuori Marema bella Marema bella Allora Ieri Vedete qua Due vocaletti vi fa Adesso registro questo Lo carico Scappo di sopra Metto fuori il piumone A prendere aria C'è il sole che va Così gli acari Se ne scappano via E vi racconto di ieri Ieri si è concluso Questa meravigliosa rassegna Durata Sei incontri Uno settimanale Il venerdì In biblioteca Ah, la biblioteca degli ardenti Non mi ricordo come si chiama Ah, vabbè Perché ci sono tante biblioteche a Viterbo C'è il consorzio Peccato la via La locazza Che parte che me casco per terra È buio Arrivarci Marema bella Ah Il nostro commissario Non so perché Commissariare È commissario Che è una persona squisita Tra l'altro Io dico Commissario Mi viene in mente Maigret Mi viene in mente Montalbano Questo stomino carino Che ha minacciato di lanciarsi giù dalle finestre Se non ridavano i locali storici Dell'altra biblioteca comunale Perché non si sa come mai Durante i restauri Poi è stata data Incomodato d'uso Ai cavalieri di Malta Ah, cavalieri Eh, arredateci il nostro Io poi sono qua Per caso Comunque è tornato Il gesto clamoroso Eh, vabbè Provocatorio Non si sarebbe mai lanciato Però Ha fatto bene È una persona caliente Il nostro commissario E quindi Quella meravigliosa biblioteca Che ospita Dei libri Dei libri Dei tomi antichissimi Mi pare anche Il primo libro stampato Al mondo Chissà 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 Il Dei simoni Mio padre La domenica mattina Aveva il mangiadischi E ci metteva Queste belle canzoncine Dei tempi correnti E anche poco più Mio padre Ha avuto noi Ha cominciato A produrre A 21 anni Era giovane Era un bel ragasso Mio padre Assomigliava a James Dean Con tutta la banana davanti I suoi golfettini Davvero Poi ve lo faceva vedere Mio padre da giovane E E cantava Mio padre Fischiettava Aveva di quelle canzon Di quei dischi Una volta si ascoltava Tanta musica Che era musica Che se poteva cantare Senza Per essere allegri Invece di essere arrabbiati Che schifo Quella che viene chiamata musica adesso Che schifo Già la musica leggera Mi ha piaciuto a poco Però Vabbè Finite qua Insomma Allora Una prossima gita Amiche belle Muovete le chiappe Venite a Viterbo Che vi porto in giro Ad assaggiare cose buone A vedere luoghi belli Tanti luoghi belli 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 Allora Ho già assistito A dei convendi A delle presentazioni Di libri Presso L'archivio L'archivio Diocesano Con quella vista Non so se vi ricordate Dove dentro Poi c'erano ancora esposti Dei Patchwork Quilting Che riproducevano Delle miniature Dei cartigli Ripresi da certi tomi Antichi Siti Al mattino È visitabile Libero Gli archivi Solo al mattino Però Credo non il sabato Mi pare E Beh Le biblioteche Per fortuna Per entrare nelle biblioteche Non bisogna avere la residenza Del posto Dove vuoi andare Quando tu vai in giro Cosa Io andrei a vedere Guardate Delle grandi biblioteche Andrei al teatro A mangiare Quello è ovvio Quando mangiavo il pane La cosa che volevo assaggiare Del posto È il pane Lo faccio ancora Non provo Vabbè Se merita Lo vedo Se merita Se non merita Mi frego Mi bata se Sei di sospesa Mi bata se È cattivo E allora Mi bata se Non lo Non lo Non lo compro Non lo assaggio Il povero glutine Che le mie articolazioni Ululano Quando mangio il glutine La pancia gonfia I tessuti Si Tu me fanno Un mostro La Lorenza Insomma Ieri si è concluso Questo Questa rassegna Che vuol dire Allora Ogni incontro In ogni incontro Si è parlato Appunto Delle penne di spicco Della letteratura Gialla Che poi il giallo Da che cos'è nato il giallo Da quella collezione Nata Pubblicata Negli anni Quaranta E oltre No? Mi pare Adesso poi Così Quaranta Cinquanta Della Mondadori I gialli Mondadori Non giallo Perché se vomita La bile Insomma E il giallo Era così Adesso ve lo dico Un po' La cacciarona Ecco E quindi All'ingresso Della sala C'era La signorina Che poi è una signora Grande Che passava Il libro L'ha già preso Lei Non sono arrivata Adesso Ma me lo dia pure E anzi Se ce ne ha due E quindi E quindi Ci è stato Fatto omaggio Di un libro Ad ogni incontro E quindi Che aveva a che fare Con l'autore Ecco Del momento L'autore trattato E ci sono stati Allora Sono stati presentati Da persone diverse Adesso non mi vengono In mente i nomi Quindi Poi vi approfondisco La cosa Anche una signora Brava Che ha fatto L'intervista A chi Ha E mi pare brutto Dire il figlio Di Enzo Piano Però adesso Andiamo a vedere Come se c'ha Ma perché Carlo Piano Vedete Carlo Piano Che ha scritto Questo libro Prendendo Spunto Anzi Lui è un giornalista Parlando Del caso Bilancia Non so se voi Ve lo ricordate Io in quegli anni Viaggiavo assai In treno Per la Liguria Avevo i capelli Riti in capo Perché è successo Di tutto Sui treni Ecco Ero una giovane Ragazza In viaggio Una signora Che viaggiava in treno Quando venivano Trovati in corpo E vedete Tanti bei libri Ma mica delle cose Mica Squacquerete I libri I libri Non ne ho mai Abbastanza Come i filati E dove te li metti Preoccupate Guardate Li metto Da qualche Anche per terra Se fosse il caso Ma io li voglio Insomma Ieri Ultimo incontro Quindi Cominciata Con Signore E quindi Io poi Mi stavo già Seguendo Rivedendo Ieri Ieri Non l'ho fatto Perché era Tardi È finito Tardi E dovevo Non volevo Rischiare Per Vedete Sono la Dedica Lorenza Lorenza Gli ho detto Gli ho detto Con 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 Terrario O Ingegneri 33 No vabbè Sei sciva Stavo Dì No Stavo contenta E ti è successo Già di tutto Io non mi arrabbio Non è che quando Mi succede qualcosa Mi va storta Tutta la giornata A meno che Non provare Paparotta di collo La prendo con Molta ironia Così Amen Perché ci sono tutti Sti fondi Ah E lo zucchero Non l'ho fatto bene Quello con la cannella Che io non dovrei Mangiare la cannella Allora Ieri Quindi Come ultimo incontro I libri venivano dati In mano No Senza confezioni Ieri invece C'è la signorina Con la shop Dico Me scambia per qualcuno Lei apre Guardavo Ah Dentro un botto Di roba Ecco Tutto quello Che vedete qua A parte Punto pieno Che no Quello lì lo devo rendere Devo spicciarmi A leggerlo Che lo devo rendere Tutta questa roba qua Vedete Una shop Elegante In carta Della biblioteca Con Tutto stampiglato Ciò che serve Sapere Ricordare Divulgare E Lui è stato Ieri Ha concluso Ma quanto è stato bravo Cosa mi piace A me Di chi Relazione In qualche modo No Un argomento Al caldo Seduta Poi mi vengono Le orticarie Sono allergica Agli acari Dei tessuti Quelli di Certa polvere Per fortuna Non la mia Non la mia polvere Della lana Ma Ad esempio Le polveri Delle Delle fibre Acriliche Sintetiche Allora Io andavo Ad acquistare Filati Presso Una Come si dice Una Domani ve lo dico Aspettate Non mi dico Ce l'avevo Sulla punta Della lingua E anche Già fuori Lo spaccio Ecco Nello spaccio Di una Filanda Di una filatura Toscana E a fianco Poco prima Nello stesso piazzale C'era Un C'è Non c'era Non so se ancora Perché poi C'andavo Quando Camila Era ancora bambina Direttamente Poi me le spedivano Le cose Quando passavo Per Camaiore A fianco C'era La rivendita Di una produzione Di vendita Di giocattoli Ma soprattutto Pupazzi Ecco La polvere Di quei pupazzi A me Mi ammazzava Perché mi gonfiavo Subito Gli occhi Le bolle in faccia I ponzi Devo entrare E uscire Ma una Un paio di volte Ce l'ho portata Con me Camila Che non ce l'ha portata Una bambina Tanto non mi ha mai Trovato niente Che gli piacesse Era immenso Così come Nel reparto Di quel magazzino Svedese Giallo e blu Dove c'è il tessile I tappeti Quelle robe lì Io lì entro E non vedo l'ora Di uscire Perché anche lì Mi si tappa il naso E santa pace Ed è già migrato Quindi io quando sto lì Nelle poltroncine Come al cinema Al teatro Migrato Inizio a prudermi Da tutte le parti La faccia Mi sento I ponfetti Ecco Dico Che semo Peno male Che non mi è scappato Lo starnuto Solo due colpi di tosse Ieri Quindi ieri Mi sono un po' addormentata Perché ero stanca Non perché la persona Avesse Scusate Una voce noiosa Anzi Ha parlato a Raffica Ma proprio Gagliardo Nei toni Questo signore Non credo che faccia teatro L'altro l'ho sgamato Perché ho detto È troppo bravo Dalla lettura A cambiare tono Insomma E infatti Era un scenografo E attore Mazzaro Ma una roba Di una qualità Queste cose Mica dal circolo Del paese No Senza Dico Che ne so Non dal circolo Del condominio Che magari Poi nel condominio Che ci avevamo Ci avevamo dei pezzi grossi No Ci avevamo dei pezzettini Ma non è un condominio Casa mia Quindi è stato Gagliardo Ma ho preso Poi ho Stephen King Ieri l'argomento È stato Stephen King Lui Luca Briasco È stato Il primo E non so se è solo lui Il traduttore Dei romanzi Di quanto ha scritto Stephen King Da quando ha iniziato A essere divulgato Credo Lui che è stato È laureato In letteratura americana Ha preso un master In letteratura americana Ha preso un sacco De roba Ma è stato ganso Mi è piaciuto Un botto È arrivato Tardissimo Tardi Poveraccio Ma ieri c'era Il delirio A Viterbo Ma c'era il delirio A Roma E uscire E non riuscivano A rintracciarlo Perché non si sapeva Che fare Ma io C'avevo il mio libro Io stavo leggendo Punto pieno Un beata pace Lì Ah Poi si arriva Tutti prestissimo Perché siamo In gordi dei libri E poi ci piace Stare davanti Perché è piena La sala è piena E a volte ne devono aprire due Quindi Questo signore È stato grandissimo Io ho letto Stephen King Uh Quanti anni fa Negli anni 80 Sì Tra gli anni 80 E gli anni 90 C'è avuto anche il periodo Stephen King Ma Adesso voglio Voglio informarvi Perché Ecco Tutti gli squartamenti Non voglio aver paura Infatti ho smesso E detto basta Però a me piaceva In tre secondi Leggevo Io non dormivo Io non dormo a volte Per leggere Poi mi alzo Che so Rincoglionita Mi piace leggere La notte Mi piace leggere Sempre Le panchine Che meraviglia Sedersi a leggere In una panchina In un parco A volte Anche quei rumori Che io non sento Casualmente Ogni tanto Diciamo così Mi piace anche Ascoltarli Tipo Hai da attendere Mezz'ora Un autobus Hai una strada Magari con dei begli Adili E va bene Pazienza Ci sorbiamo Anche un po' Di traffico cittadino Di voci della città Perché no Altrimenti I parchi I giardinetti Le passeggiate a mare Il lungo lago Ma che bello Anche un buon bar Una saletta Un'osteria Una trattoria Una gelateria Insomma Dove se sta bene O se sta al freddo Perché al freddo Se tutti a leggere Anche no A meno che non si stia fuori Una giornata Gagliarda Avete i piedi caldi La capa coperta I guanti alle mani Come si dice I guanti da lettura Ho fatto di quelle confezioni I guanti da lettura Con le cravate Anche da uomo Ah che carine Che le ho portate Anche in mostra All'attore capitolare E la confezione Com'era Erano delle scatole Di cartone Ondulato Di cartoncino Ondulato E come Decoro Diciamo La La fotocopia Su carta Da lucido Della Di un ritratto Del mio bisnonno In abiti Da marinaio Da marò Eh Tratto dal suo Libretto di navigazione Che ce l'ho io Erano carine Ci stavano bene A porto Vabbè Queste cose Balzane così Quindi ieri Stephen King E ha parlato Di Stephen King Io ero un po' Ignorante In realtà Sulle pubblicazioni Sulla vita Su tante cose Di Stephen Siamo amici No Ma Stephen Ieri Poi Ancora di più E quindi Mi approfondirò La cosa Perché poi Sono di quelle Che diventano Seriali Se inizio a leggere Uno scrittore E mi piace Devo leggere Tutto E tutto Tutto proprio In sequenza In modo da seguire Un po' Il percorso E l'ho fatto L'ho fatto Con quelli che ho amato Di più Quindi ripeto Da Herman S Thomas Mann E La Jursenar Un po' Benvenuto La Jursenar E poi Gabriel Garcia Marquez E poi Non mi ricordo Insomma Io poi Resetto Non sono di quella Che si ricorda Ma anche quando vado A vedere un film Che mi è piaciuto Chi se lo ricordo Mi dico Oh ma io Tanti anni fa Resetto proprio Troppe cose Da ricordare Qualcosa mi segna Però ecco Per carità Ho una memoria Ma proprio Anche proprio Un mio approccio Che non voglio Non ce l'ho Questa cosa fotografica Che ricordo Tutto quello Che ho letto Ho letto Ma sicuramente Comunque Lascia un segno La lettura Anche se non Non ci ricordiamo Proprio Tutto 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 Ho letto Talmente Tanta roba Che che Si Ciao Però Questo Contribuisce Comunque A farci Evolvere A modificare I nostri Approcci Con la vita Con le persone Anche con la lettura Stessa Non importa Ricordarsi Per filo E per te Che siamo A squadra Quindi ieri Ieri C'è stato dato Ho fatto questo E non Ho la firma Perché sono dovuta Scappare Intanto a farla Coda al bagno Come la facevo Adosso E poi a scappare A prendere L'autobus Perché era già Tardino E è arrivato Tardi Ma meglio Aspettare Che vederselo Passare sotto Al naso Ecco E quindi Sono scappata Mi dispiace Che signore Meritava È stato Simpaticissimo Questo c'è stato dato Guardate che bello Guardate Guardate C'è il bollo Qua Promozione Alla lettura Ma promuovi Io sono promossa Guardate Poi c'è stato dato Questo Ho detto Che bello Come un audiolibro Letto Ma ho detto Non è una videocassetta Non è un cd Non è un dvd Che è sta Oh Allora Dracula Che cos'è Io non ho mai visto Queste cose Guardate poi Che bella Che bella Io guardo Il libro Come oggetto Quando sono andata A restaurare Il mio libro L'anno scorso Nel laboratorio Dell'associazione Culturale Itineral Cultura Ecco Quello che mi è piaciuto A parte che io amo Il libro Proprio come oggetto Il professor Mascagna Crea Oggetti Crea delle borse Dove il tema È il libro Qualcosa di bellissimo Che non sono più passata Perché il giovedì Per me è una giornata Di lezione a casa E quindi Porca miseria Però adesso Mi prenderò un appuntamento E poi vado a trovare I miei amici Di laboratorio Oh Quindi il libro È bello Lo guardo come oggetto Guardo che tipo di carta Annuso Lo profumo della carta E quindi questa cosa qua È un audiolibro Ma come Lorenzo È un audiolibro È un libro No è un audiolibro Eh A me mi è apparso strano Non lo conoscevo Vedete qua Bisogna grattare E con l'app Si nasconde un audiolibro Come si fa Un po' meno E più No Non scrivo Magno Magno Quindi ieri Ci hanno dato queste due cose Questa novità Così ne ho imparata una Ieri Non ne ho imparata di più Perché ho scoperto cose Di Stephen King Che non sapevo E poi guardate che meraviglia Queste pubblicazioni qua Tanta roba Tanta roba Guardate Tante cose da leggere La parola Qualcosa di meraviglioso Ecco perché mi arrabbio Scusatemi È quando sento usare Le parole A cacchio campana È un peccato Io poi non sono maestra Per carità di Dio Ma Non ne ho da insegnare Però vorrei Ecco Non fare Non far fare All'umanità Ne passi indietro È per carità Usiamo Abbiamo tante possibilità Per attrarre verso di noi Se abbiamo dei contenuti validi Le persone che cercano Quei contenuti Senza Trovare delle scorciatoie Senza manipolare Ecco Quello mi Mi urta veramente È una tristezza infinita Quindi Guardate Come sebeo Questo coso qua Elogio Della poesia E poi abbiamo Guardate che altro Bella cosa È bello Per me ad esempio I tavolini Vi ho detto Quando sono andata In un noto showroom Di arredamento Non vi dico E ho visto Quando vado Negli showroom Di arredamento Ecco Soprattutto Quando le cose Costano un po' Da risorti Mi parli di design E poi mi esponi Dei libri finti Sapete Nei libri Sono libri finti Oppure anche sui tavoli Ma vanno messe Delle cose meravigliose Poi certo Ci stai all'occhio E non te le fai rubare Ma Dei libri veri Soprattutto di architettura Di arredamento Di La storia del tessuto De tante Di Di Restauro Ecco Ma Che brutti Libri finti C'è gente che ha Nelle librerie Finte enciclopedie Mi viene male al cuore Ma allora non sai Come riempire gli spazi Come i soprammobili Mi fanno morire Io metto su un mobile Qualcosa che mi piace guardare Che per me Ha un significato Il soprammobile Bisogna comprare Il soprammobile Perché lì ci deve No Quando ti capiterà Che ti vuoi mettere qualcosa Che ti ricorda qualcosa Un oggetto Sei stato a Caltagirone Sei stato a Murano No Una cosa che Questo è il mio approccio E mica deve essere Quello di tutti Però mi fa tristezza Vabbè Allora Oh Biblioteca e società Tra la Lero e la 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 E me l'hanno regalato Vedete che bello Non è meraviglioso Guardate che bello Guardate quanta roba da leggere Ma guardate com'è bello Leggere rende liberi Non lo so Però Se si leggo Ad esempio L'informazione È un'unica fonte Che dove non ti puoi provocare Procurare Ascoltare Un contraddittorio Come te la fai un'idea Se senti sempre Le stesse Perché la pensa Perché Io come vedo La gente che aggredisce Dico Già te nemeciasi C'è da camufruare C'è da camufruare qualcosa Andare per grotte Guardate che bello Quindi c'è da leggere Queste sono cose belle Da lasciare lì A disposizione La mia non è una casa Di rappresentanza Quindi è che ospito Però lasciare in giro Ogni tanto Li cambio I libri Sul tavolo Ci sono sempre Dei libri Vate lì Che ho fatto lezioni L'altro giorno Sono rimasti lì Insomma I libri Sono belli Un'occasione Ti fermi un attimo Aspetta un po' Guardo fuori dalla finestra Per me è fondamentale Quello che è fuori dalla finestra Le case belle Dentro O esternamente Poi Da quelle finestre Te vedi Una roba orrenda Non mi godrei casa Non mi godrei niente Una stanza Ma fuori In mondo bello E c'è una via qua Poi ve la farò vedere Che c'è Un angoletto Delizioso Da guardare E dico Quelli che abitano qua Cosa vedono Quella roba brutta Oh mamma mia Che angoscia Ti entra in casa No Per me è importante Quello che sta fuori Dalle finestre E devo dire Che mi è andata bene Perché divento matta Non ci vado In una casa Che mi fa venire l'angoscia Quando devo guardare fuori O devo tenere Le finestre coperte Per non angosciarmi No Va bene Insomma Sono contenta E quindi A bottega A studio Insomma A Castel Gandolfo La casa Perché È stato il mio Recupero Ecco Il mio recupero Papa E' partita tutta la chitarra Era la mia seconda chitarra E non c'ho più una chitarra Non ho più il flauto L'ho legato a mia nipote E' andato a mille pezzi Il mio flauto attraverso E prima o poi Me la ricompro È una chitarra Eh sì Voglio rimettermi un po' Studiare Stimpellare Anche se le mie dita Mi fanno male Becco E non sono più in grado Di fare tante cose Volevo studiare il violino Pensate un po' L'arpa Allora Ho messo mano Su un clarino Non sono capace Di suonare gli strumenti A dancia Non riesco Un suono Una volta casualmente Ma non mi riesce Proprio Non mi riesce Di gestire Gli strumenti a dancia Col flauto attraverso È stato un amore Proprio Tu L'ho preso Non mi ha insegnato nessuno Sono stata un'autodidatta Poi ho avuto un maestro Ce l'ho avuto per un anno Il mio maestro Di banda Che mi abitava nel palazzo Tutti i santi giorni A far solfeggio Tutte le sere Mi aspettava Hai mangiato Lorenza Scendeva E mi faceva solfeggiare Mi faceva studiare Però era bello Andavo in banda con lui Io non sono mai uscita Con la banda Ho fatto esercitazioni Nella sala Ma neanche spesso Non avevo tempo Lavoravo Quando uscivano Con la banda Facevano i servizi Per recuperare i fondi Per mantenersi Bella la vita della banda Di striscio Ecco Sono andata la cena sociale Con il mio maestro Anziano carino Mi ricordo Luigi Oh Vedete A volte mi viene in mente Luigi Si chiamava Il mio maestro Di Flauto Perché lui suonava Il genis E poi suonava La troma Quando suonava Si gonfiava Tutto Lo faccio rotto Ecco Ho strimpellato Il pianoforte Non so capace Però c'è un pezzo di Chopin Un balser di Chopin Che se il vero suono E' più brava La Lorenza Qui le quattro note E' lì E basta Non so capace Non riesco poi a gestire Le mani in quella maniera Lì Ma per me C'è una parte di cervello Ma manca E il mio sogno Era Saper cavare Uno dei miei sogni Sono piena Guardate I miei cassetti Strabordano Infatti provate A aprirne uno Poi non li chiudete più Asce di tutto Da tutti i miei cassetti Partendo da quello Delle mutande E poi Oh che ridere Era così Vabbè la prendo a ridere Non riesco a modificare Queste cose qua Vabbè Scontrini Cose Tengo tutto Mamma mia E E quindi Il mio sogno era Riuscire a cavare Delle note Da un violino Delle note pulite Ovviamente Non lo stridio Di denti E l'arpa L'arpa Proprio lì Ce l'avevo nel cuore Da bambina Prima del flauto Poi mi sono innamorata Del flauto Questa voce Poi è differente La musica È qualcosa Che Ha a che fare Proprio con la fisicità Della persona Si vibra All'unisono Con lo strumento Quindi Un conto è Come si vibra Come la persona vibra Mentre suona Uno strumento Come la chitarra E un conto è Come si vibra Con uno strumento Come il pianoforte E poi Ecco Col flauto È stata una cosa Perché il fiato È un contatto diretto In maniera diversa Ci sono sì le dita Ma c'è il tuo respiro Che meraviglia Ecco La mia bambina In panzetta Ecco Si è sentita la mamma Che strimpellava Povera che suonavo Le suonavo delle cose belle Delle belle Nine e nanne E poi ecco Una cosa Che non mi riesce Di suonare in pubblico Ma quando stavo Casteggando il fluo Ho detto Che andavo per i boschi Non mi andava A farmi sentire Ho sentito Mi veniva nervoso Perché è un momento mio Intimo Suonaci qualcosa Noni Ma in banda Era diverso Mi esercitavo Non ho fatto Delle esecuzioni Ma era una cosa Di gruppo Diversa Far parte Di un gruppo Musicale Non è come fare Una solo Oh no Io non farei mai Oppure Essere una Adesso non mi viene in mente Come si dice Va bene Suonare solitare No 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 Ma perché sei timida No È proprio perché Con lo strumento Con la musica Ho un rapporto Così intimo Mio Mio Non perché Ti sentono che stecchi O che non è perfetto Ti dicono No Perché è proprio Un rapporto mio Come quando vi fate il bidet Non lo so C'è chi magari Vuole anche gli spettatori Ecco Vi fate Siete da soli No Con voi stessi Vi lavate Ecco La musica Per me è quello Un momento mio Unico Personale Non lo voglio partecipare Con un conto Con mia figlia Un conto è stato suonare Mentre avevo Stato a gravidanza Risco Però suonavo Potevo stare solo in casa Negli ultimi mesi Quindi suonavo per lei Quando ero sola Neanche quando c'era mio marito Quando Non mi andava proprio Di suonare Con gli altri Per gli altri E Avevo preparato Tutta la collezione Di duetti Per pianoforte E flauto Io già mi immaginavo Con mia figlia Un domani E che non abbiamo fatto In tempo Perché Camilla È andata a suonare Il pianoforte Però poi Non abbiamo avuto Modo di suonare Insieme Anche perché Non erano pezzi facili Poi purtroppo Ho mollato lì E poi E poi basta Ho lasciato perdere La musica Quando ho iniziato A tessere Sul mio telaio Con la sua base Quando mi mettevo Ecco il rapporto Con la tessitura Con un certo modo Di tessere Per me È stato come quello Che ho avuto Con i miei strumenti musicali Sedermi Boom Partiva tutto Io Iniziavo a tessere È vero che a volte C'è un progetto Ma le prime stole A razzo Sono nate Proprio Eseguendo La tessitura Di getto Con i colori Che avevo preparato Ma per realizzare Cose diverse La prima cosa Che è nata La prima stola A razzo Proprio con Quel senso Di abbandono Totale Di astrazione Di assenza Quasi È stata Alle fronde Di pozzi di petrolio Ma ne riparleremo Insomma Mi manca Quella Quella cosa lì Mi manca Quella relazione Col tempo Con lo spazio Con il gesto Anche col colore Anche con i filati Ma è diverso Adesso basta Vi saluto qua E vado A esporre All'aperto Vado a mettere Due pezzi di legna Nella stufa Vado a esporre Esporre Esporiamo le bandiere Vado a mettere fuori Sui fili Il piumone Così Inserava Oggi E poi torno Che vi racconto Altre cose Che vi devo Far vedere Lo sprone Del golfino nuovo Della cami Quindi Venite a Viterbo Che vi porto in giro Anche a vedere Le nostre biblioteche Va bene E poi andiamo A fare dei raduni Qua Dei raduni là Magari In qualche parte C'è bisogno Di pagarsi Un biglietto D'entrata Ma moderato Modesto Per stare bene Insieme Condividere I nostri interessi Imparare qualcosa Reciprocamente E tu insegni Una malizia di uno Una malizia dell'altro Fare questi incontri Poi per chi volesse Seguire le mie lezioni Personalizzate Di maglia Di uncinetto Ma soprattutto L'approccio Col gesto Calmo Calmo Del tessere Benvenga Contattatemi In privato Ciao Su Instagram Ciao